Let's go La telecamera di qua ho failato in una maniera incredibile Comunque sono qui sentite già le risate di sottofono Sono qua in compagnia di una persona che comunque alcuni di voi già sapranno Con cui avevo programmato di fare un video In questo caso beh presentati fai il getto da solo Bella a tutti ragazzi sono Medino e grazie mille a Giorgio per avermi ospitato qua sul suo canale Li andremo a distruggere questi, li faremo tanto male quindi preparatevi Preparatevi che questi non escono vivi da Fringe Conta che quando hai detto benvenuti a tutti bla 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 Cioè mi pareva tipo che era una voce registrata presa da un tuo video Quindi la gente poteva pensare che era fake as fuck Però in verità guardate c'è qui dentro Comunque Sta facendo un fake like usando la mia voce Ci pensi che figate una volta te lo faccio Comunque Non siamo qui solo per dire cazzate Anche se in verità si siamo qui per intrattenervi Siamo qui per un progetto Per un programma diciamo che vogliamo fare assieme In questo caso una tipologia di video Nuove Medino è subito morto dalla pistola di Sanchez Che gioca nell'Arsenal Ma ha deciso anche di darsi a code Eccolo Sanchez Comunque Medino Bene perché non spieghi un pochino che cosa vogliamo fare assieme Perché questo video è un intro più che altro Ok ragazzi Questo qua è più Come ha detto lui Cioè sarà tipo una piccola intro Quello che poi andremo a fare Che sarà Ti salvo io Tra virgolette Un progetto che abbiamo intenzione di fare Cioè più che altro sarà un video Logicamente se è vero che vi piacciono Se vediamo che vi piacciono Ne faremo tanti altri Insieme non solamente un paio Comunque abbiamo intenzione di fare Avete presente le double nuclear Che si vedono Boh Tanto su youtube Tanti fanno doppia nuclear Oh ma porca puttana Oh quello con la pistola è stronzo Si vero Tanti fanno doppia nuclear Ma non doppia nuclear singolo Tipo un nuclear Nuclear lui Oddio sono troppo concentrato a giocare Non riesco a parlare Dicevo Dai ti aiuto io mi dito Dicevo un nuclear io Un nuclear lui Ma la cosa particolare dov'è Che noi non faremo semplicemente Un doppio nuclear e ve lo caricheremo No Ma non è reale come sto morendo Grazie al cazzo Ho 90 di prima Ma è così Skype La maggiori Skype E in poche parole Noi andremo a mettere Nel dual nuclear Ognuno sul suo canale Caricherà la sua pov Con nel riquadrino Ad esempio della facecam La pov dell'altro Si però Sanchez Ti deve scoppiare un embolo Davvero con quel cazzo Distordente Con la pistola Mi sta facendo venire la rabbia Zitto e concentrati a parlare No davvero Non ce la farò mai Praticamente Allora Praticamente Metteremo le pov di entrambi In modo che potrete vedere Cosa succede In tempo reale Nella visuale Dell'altro giocatore Quindi sapere cosa fa uno Oddio c'ho uno sdraiato Ma io ho un regalo per Milino E sapere anche Cosa fa l'altro giocatore Quindi una cosa magari Diversa Un pochino innovativa Rispetto alle classiche Pov double nuclear Che comunque Si mette solamente l'immagine O magari quello che stava Facendo l'altra persona Io nel frattempo Mi dino Sono 14-0 Ti ho tirato un hater E sto aspettando Che tu mi diri un hater Magari Fratello Avrei bisogno di un aiuto Ma quanto Godo Sanchez Si è suicidato Con la granata C'hai mille persone davanti Mi dì Le vedo Uno due Oddio No Mi è scappato No no Sanchez è stronzo Sanchez è stronzo Con il impulso visivato E poi è uscito sparando Uno stronzo Cioè ma Sai che ha 6 kills Ce le ha tutte e 6 Su di me Io sono morto 7 volte Di cui 6 da lui Ci credi? Mi dino sclero ragazzi No ragazzi Sto facendo una partita inguardabile Io davvero Sto facendo 12-8 Cioè la partita La partita prima Tranquillo che la pop Non verrà messa Ora No ma non è vero No c'è un nemico davanti No sono morto Guarda Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Mi dino non puoi capire Quello che sto facendo Mi dino non potrei mai capire Quello che ho fatto In questo momento Ho 4 colpi E ho fatto una cosa allucinante No dicevo Porca vacca Attento mi di C'è l'esercito del male là Mamma mia Oh mio dio Che paura Mi di Mi tirano le granate Sti pigli Sanchez Hai rotto il cazzo Oddio è 24 Giorgio Sì sono 24 Magari ci scappa il nucleare Ci pensi Non sarebbe male No maledetto Ci scappa il nucleare Non sarebbe male Che E ti ruba il nemico Mi dino stronzo Mi dino Amici amici poi ti rubano Eh infatti Bastardo Guarda che io ci andavo in bici Non c'ho la patente Maledetto Senti io non trovo un nemico Che cazzo è sta situazione Surprise motherfucker Ma mi è sponato in faccia un compagno Uno middle map Aspetta che qua Ti chiamo No Tranquillo è solo un brutto sogno Ti sveglia adesso E sei lì tranquillo a casa E stai riposando Ho visto cosa è successo Non voglio più parlare Andrò concludere io Perché so cosa sta provando Giorgio in questo momento Vaffanculo No raga Io non ci credo Fai bene Non credere Cioè sono una cazzo di trip Mine Ma mi spieghi Ma perché Perché David Ponder Devi mettere le porcate In Call of Duty Perché Io piango La gente starà a ride Se starà a fare risate Dice Ah guarda che divertente Voi non potrete mai capire La frustrazione di questa cosa Fibro No Io mi sento una cattiva persona Piango Piango Tantissimo Piango Non voglio più giocare Basta Mi sento una cattiva persona Perché te l'ho tirato solo adesso Voglio tirartelo prima No sei un infame Ti giuro sei Ti giuro sei proprio un infame Mamma mia Proprio c'è Sei proprio una guardia No Cioè l'ho appena preso Però Volevo prenderlo un po' prima Eh mi sono svegliato adesso Cioè ero tipo 16-10 Sono 32-10 Io piango Io piango Dopo questa cosa Nemmeno ballo questa volta Il mio robottino Ti rubano la bici Quella è bellissima Ti giuro è la citazione Biabica di sempre Comunque Siamo arrivati alla fine del video Sicuramente voi vi sarete divertiti Midino pure Io no Comunque Passate sul suo canale Lasciate un like Ovviamente vi ho lasciato il canale Qui sotto in descrizione Di un mitico Midino Che tira a nuclear Ogni secondo Ragazzi Ha fatto dei gameplay assurdi Come ha fatto il TBM Senza hater e altre cagate Così a cazzo Quindi vi consiglio di vedere Quel nuclear E un sacco di altri Bellissimi gameplay Da parte sua Quindi un saluto Da Power Let's go Baccia seta Bella ragazzi Milino Ti aggiungerei Ti ho detto Vabbè lei dentro Bella ragazzi Let's go Baccia seta